La lavanderia di Papa Francesco della comunità di Sant'Egidio a Genova, un aiuto concreto ed un gesto di vicinanza per le persone senza fissa dimora. Moltiamo pagina, domenica la Chiesa celebra la giornata mondiale dei poveri indetta dal Pontefice a seguito del Giubileo straordinario della Misericordia. Tra le iniziative che hanno preso il largo da questo impulso, la lavanderia di Papa Francesco, un luogo dove le persone che vivono in strada possono lavare i propri indumenti e curare l'igiene personale. Una si trova a Genova, in zona via Balbi, gestita dalla comunità di Sant'Egidio. Siamo andati a vedere. La lavanderia di Papa Francesco nasce dall'esigenza delle persone senza fissa dimora, di poter usufruire di un bagno, con doccia o di una lavatrice. È stata ideata ed è portata avanti dalla comunità di Sant'Egidio, con il servizio dei volontari. Le persone che incontriamo chiedono soprattutto un rapporto umano, chiedono che qualcuno li guardi nel volto, che una mano si stringa, chiedono un abbraccio, segno anche di un calore e di un affetto per la loro vita. E credo che proprio soltanto da questa esperienza umana di qualcuno che ti dice io sono con te, io ti accompagno, quindi non qualcuno che sta davanti a te o dietro di te, che quindi o ti tira o ti spinge a uscire da una situazione, ma qualcuno che si accompagna a te, che sta con te nelle difficoltà e insieme provare ad uscire. Credo che questa sia la cosa che loro chiedono, che appunto il Papa ha compreso molto bene, che è quella di ridare speranza alla loro vita. Si tratta del secondo servizio di questo tipo, intitolato al Pontefice, con quello a Roma, in piazza San Pietro. All'inaugurazione, lo scorso 25 ottobre, rappresenta anche l'elemosiniere del Papa, Conrad Krajewski. Effettivamente per noi è stata molto importante perché ci ha incoraggiato, ci ha aiutato, ci ha accompagnato, ci hanno detto di andare avanti e in questo abbiamo sentito anche molto forte la presenza, l'aiuto e il sostegno anche del Santo Padre. Tra pochi giorni sarà la giornata mondiale dei poveri, detta da Papa Francesco, nella lettera che l'accompagna scrive appunto il titolo proprio «La speranza dei poveri non sarà mai delusa». E poi il Papa invita non solo ad aprire dei luoghi appunto di servizio ai più poveri, ma di aprire la nostra vita, il nostro cuore a queste persone. Quello che dà speranza è proprio questo rapporto umano che si può instaurare con loro. Pur essendo un'iniziativa recente, ospita già dalle 60 alle 70 persone alla settimana, principalmente uomini tra i 40 e i 50 anni, sia italiani che stranieri. Sono persone che hanno perso il lavoro, hanno avuto sempre un lavoro precario, che con la situazione di crisi negli ultimi anni non sono più riusciti a uscire fuori da una situazione già difficile e purtroppo sono finiti sulla strada. Grazie a tutti!